Chiudere alle 18 significa non aprire più. Il Premier Conte firma il nuovo decreto valido fino al 24 novembre. Bar, ristoranti, pasticcerie e rosticcerie chiusi alle 18 stoppa anche a piscine e palestre. Se non si adottano misure economiche e strutturali sarà la chiusura per molte attività. L'Associazione Commercianti per Salerno manifesta ancora una volta il proprio dissenso contro le politiche del Governo e della Regione Campania. L'ultimo DPCM ha sancito in pratica la morte del commercio. C'è ribellione, scarsa fiducia e il timore di ricevere solo promesse mentre gli imprenditori sono nell'impossibilità di proseguire nelle loro attività. A partire da oggi così come previsto dal decreto cui però fa seguito l'ultima ordinanza regionale della Campania, la numero 85, le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite dalle ore 5 fino alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici aperti al pubblico mentre è consentito l'asporto per il quale scatta il divieto dalle 22.30. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna in auto i quali possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti. La consegna a domicilio è comunque ammessa con possibilità di disporre l'ultima consegna fino alle ore 23. Forti proteste dei commercianti che chiedono aiuti immediati o la ristorazione è morta. Per chi lavora di giorno comunque è una perdita. Ieri parlavo con un collega che ha una catena di bar a Salerno conosciuta diceva io chiudo alle 6 per il 30-40% degli incassi che è il mio aperitivo ovviamente. Quindi il decreto è sicuramente molto penalizzante. Però noi non abbiamo mai contestato nessun decreto però a fronte, come abbiamo detto più volte, di un ristoro che ci faccia recuperare queste perdite. Allora questo per quanto riguarda soltanto chi lavora anche di giorno. Non parliamo di chi lavora solamente di notte. Molti colleghi non apriranno proprio. Mi è compreso che posso limitarmi insomma alla vendita dei prodotti che io offro. Per di più ci è stata anche tolta la possibilità di fare asporto in campagna e quindi insomma un'ulteriore penalizzazione. Il Presidente Conte annuncia comunque a breve una misura per ristorare quanti avranno perdite e quanti necessariamente dovranno restare chiusi così come previsto dal decreto. Ci siamo stancati degli annunci vogliamo i fatti perché il decreto di agosto lei ha visto che è stato emanato il decreto di agosto che fine ha fatto? Non lo sappiamo. Comunque vediamo perché ha detto i soldi direttamente dall'agenzia delle entrate sui conti delle aziende. Lo vogliamo vedere, vogliamo vedere i fatti, non vogliamo vedere soltanto le chiacchiere. Gli affitti, le bollette come li paghiamo? Il credito d'imposta? Va bene il credito d'imposta a 60%? Io ho migliaia di euro da scalare di questo credito d'imposta. Quando li recupero questi soldi nel 2030. Quindi fatti non parole. Il Presidente Conte ha chiesto un sacrificio a tutti gli italiani perché bisogna contenere il contagio. Si pensa ad un Natale più tranquillo. Sarebbe stato più utile secondo lei a questo punto fare un lockdown totale per un periodo anche un po' più ristretto? Sì, lo hanno detto in tanti. Anche il Governatore De Luca aveva annunciato un lockdown, poi alla fine è ritornato un po' indietro su questa decisione. Vabbè, ma io devo dire sinceramente la verità. Anche se fa delle cose che non sono a nostro vantaggio, ovviamente lui ha detto facciamo il lockdown. Noi gliel'hanno consentito. Dice allora fateli stare aperti fino alle 11 se non si può fare il lockdown. Che mi sembra più logico. Perché comunque alle 11 ci togli una buona parte di lavoro, ma almeno una piccola parte, qualcosa di incasso poteva rientrare. Ma così è proprio l'incasso inesistente.